Il treno regionale 9-7-4 di Trenitalia, delle ore 10 e 33, proveniente da Milano Centrale, viaggia con un ritardo di 6 giorni. Attenzione! Prediamo i signori viaggiatori di salire a bordo del treno, muniti di carta igienica. Si preannuncia un viaggio di merda. Grazie. Il treno Eurostar 8-7-4 di Trenitalia, delle ore 10 e 40, proveniente da Milano Centrale, dovrebbe arrivare. O meglio, dovrebbe essere partito. Attenzione! Il treno da lei desiderato è inesistente o momentaneamente non disponibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Grazie. Informiamo i signori viaggiatori, che i treni regionali 166 e 899, sono vietati ai minori di 18 anni. Il treno Intercity 749, di Trenitalia, delle ore 7 e 25, proveniente da Roma Termini, viaggia perfettamente in orario. Ci scusiamo per il disagio. Attenzione! Treno in transito al binario 6, lanciarsi oltre la linea gialla. Si informano i signori viaggiatori, che è severamente vietato fumare in treno. Ora vi starete chiedendo, per quale motivo ci sono i posaceneri nel treno? Della domanda. Il treno Eurostar Italia, 7, 5, 8, delle ore 6 e 45, effettua un viaggio a senso solo, senza ritorno, se non in volo. Senza fermate né confini, solo orizzonti, neanche troppo lontani. Ci scusiamo per il disagio. Ci scusiamo per il disagio.